musica 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 da quant'è turn round? ora tipo musica ho appena scoperto che non si possono mettere i caricatori mentali sulla pistola perchè non esiste questo perc ma dove sono? nessuno ti sta fuggendo con camo e l'altro mi ha ucciso perchè non l'ho visto ma che cazzo che cazzo fai l'epica cazzo cazzo un attimo io metto la musica e parto è partita di nuovo io spero che mi arrivi in testa in testa è ancora è ancora mi ha dato un colpo sono stupido sono morto tante tante ti pusha ti pusha uno l'altro è sua non era lui non era lui l'altro è dall'altra tanto perdi ma che cazzo hai usato che ti è venuta fare una roba gialla l'arma avevi te? boh come ho? non mi ricordo mi ricordo perchè io flasho le persone? non mi ricordo l'arma è rinforato l'arma è rinforato l'arma è rinforato è fai per te è fai per te fai per te fai per te just like this oh love me oh love you entrami nel mio rino non so come si chiami quello comunque fuori qua l'ho visto guai tutti sti gunfight che ho vinto in realtà ma le disse vinti sto gioco di merda avremmo vinto sei partite sciocchiatemi cazzo uno dove cazzo ti sei messo ti pucia ti pucia ti pucia aspetta è stato non è vero è andato un mid è andato un mid ci gode andiamo ancora uno morto chi era? vamo allora chi è che è ancora qua intorno perché l'ho visto eh snake fermo, 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 fermo nooo dove è andato? l'hai visto? si spawn nostro dove, dove? passo, l'ho giocato benissimo per due volte due volte l'ho giocato due volte guardate un annenda al bacio ma non c'è nessuno ma cazzo ho sbagliato lo slide oh stai zitta era camo? no allora non era lui questi l'han capito chi è il più forte secondo te ma quando li tireranno il treni te lo gafferanno vieni 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 perito l'altro stiamo andando avanti preso uno ho kinetit che è rimasto? camo? lo rad che vuoi fare? non ho capito dovrei plantare che prendo il treni vieni su B si planta su B arrivo no devi coprirmi non posso giocare mentre venite così stai rilandando? eh cacchio è dentro no 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 alle 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 no dovevi coprirmi però ti giuro va bene così fa lo stesso è rad per me se io li vedo faccio kinetit anche per me ah io oh perfetto io entro dall'altra mente non li vedo sei sicuro? si non sono qua dove sono scusa? è qua fuori potrei far kinetit fuori no no tu potresti stare fermo e camperare no però non inserisco oh hai dato un colpo tiger tiger eh 0363 eh si ma guarda 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 ma faccio un colpo 5 ne son tratti ah